Questa è una commissione conservatrice, più di destra dell'altra commissione, rispecchia quelli che sono i governi in Europa in questo momento. Noi ci auguriamo che non si formi l'idea di un'Europa degli investimenti, della crescita, dello sviluppo, della coesione sociale e combatteremo in Parlamento per garantire che il programma europeista votato a luglio vada avanti. Sull'Italia vedremo il problema più grande di Fitto è il suo partito che porta avanti delle posizioni anti-europee e quindi le audizioni saranno molto importanti perché Fitto dovrà chiarire come intende attuare quegli indirizzi in chiave europeista per andare avanti e per non andare indietro. Quindi ascolteremo con grande attenzione quelli che sono gli orientamenti di un commissario italiano con una posizione di un partito anti-europeista. Certo non facciamo gli anti-italiani come ha fatto Fratelli d'Italia cinque anni fa quando ha organizzato contro il commissario italiano Gentileoni delle manifestazioni di piazza. I commissari si giudicano sulla base delle audizioni che faranno in Parlamento, quindi non c'è nessuna pregiudiziale come abbiamo detto. Ascolteremo delle intenzioni sapendo che anche oggi in quest'Aula dietro di me nella discussione sul rapporto Draghi e la destra ha portato avanti delle posizioni a mio giudizio molto sbagliate e molto pericolose.